Una decina di studenti del liceo Giannelli Campus di Chiavari ha preparato 5 video per raccontare le storie di alcune figure femminili o la condizione delle donne in alcuni contesti storici e culturali. I temi trattati sono stati 4, la violenza sulle donne, le donne la conquista dei diritti in Italia e Occidente, le donne la scalata negli sport e infine la condizione femminile in Afghanistan, Iran, Africa e America Latina. Riguardano la storia della donna in diverse sfaccettature, quindi il titolo della nostra presentazione generale è proprio La scuola racconta la donna, lotte e naturalmente anche grandi battaglie per la conquista dei diritti, per la conquista del riconoscimento del genere femminile. Dopo una faticosa ordinaria scolastica si ferma su una banchina del colore molto particolare e fa i conti con la sua realtà. Sempre di me 21 le ragazze afghane che hanno più di 10 anni non possono più frequentare la scuola. Nei paesi in via di sviluppo le donne sono meno alfabetizzate degli uomini. Se provate a cercare in internet tutti i tornei vinti nei mille anni di carriera di Martina Navratilova, solo un'unità di misura vi balzerà la mente, un botto, un sacco, insomma una catera. A Fali è stato un gruppo eterogenio di alunni e alunne, dalla classe prima alla quarta, supportati dai loro docenti. Sono stati presentati in piazza Nostra e Signora dell'Orta Chiavari durante il Festival della Parola. No, 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 no!